Giovani talenti alla ribalta, giovani registi alla ribalta, venerdì al Teatro Rex di Giarre, dove sarà proiettato il mediometraggio del giovane regista Luca Arcidiacono. Sarà proiettato venerdì 19 dicembre alle 20.30 al Teatro Rex di Giarre il mediometraggio Qualcosa di più, l'inizio di una probabile storia d'amore, scritto e diretto dal giovanissimo regista giarrese Luca Arcidiacono. Il filmato, squisitamente amatoriale, non è il primo lavoro di Arcidiacono che si è già cimentato in lavori simili. Poco più che ventenne Arcidiacono lavora come aiuto regista e il sabato conduce anche una rubrica di cinema su Radio Etna Espresso. In questo mediometraggio il giovane regista parla della sua generazione, dei sogni e delle scelte di persone comuni e di come si comportano quando si trovano dinnanzi ad un bivio. L'invito ai suoi coetanei è quello di non rimandare, non perdere tempo, perché poi il tempo non potrebbe esserci più. Il mediometraggio sarà presentato il 7 gennaio a riposto e in primavera sarà proiettato nelle scuole e di certo sarà occasione di tanti dibattiti con gli studenti. Partecipano al mediometraggio Carlo Caneba e Maurizio Caruso. Il compositore Gabriele Denaro ha scritto un singolo. Gli interpreti sono Daniele Virzi, Serena Taverna, il cantante e attore Roberto Cavallaro, Rosario Finocchiaro. La colonna sonora è di Mirko Sangrigori.